Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Darksiders Bene, attiviamo questo per far sì che, ecco, andiamo all'azione Ottimo, opla, scusi signoro, potete venireci un attimo, ne rompo i marroni però Ok, c'è boi, sono caduti in acqua, vediamo un po', eh, po' boia Eh, ma signoro, non si fa, non deve rompere i marroni, eh Insomma Ecco qua Picchiamo di romperli il culo a tutti Ok Salve Fuck Oh, leppe, 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 ok, perfetto, adesso dobbiamo far così Opla, è morto, e vabbè, capita Poi dobbiamo far così, e poi, tac, saleppa E questi, e questi, questi, questi Scusate Opla, opla, si è fatto malo Mi dispiace tanto Eccoci qua, e queste, le prendiamo Benissimo Oh, che bella cosa, siamo 10.000, eh Intanto facciamo una bella cosa, perché visto che qui c'è questo Le facciamo così Oh, questa strozza Ma che cazzo ci fate voi qua Ah, rompe sempre i baroni Eh, non si fa così Dovevo attivare sto coso io Non è possibile Ok Vai Perfetto Attivato E questa è fatta Adesso dobbiamo ritornare qua Vai Dai di qua Oh, signoro Eccoci qua Perfetto Tac Facciamo voglia Allè Oh, ma si muove E dobbiamo andare là Adesso vediamo come Intanto, visto che noi abbiamo attivato questo Che servirà a qualcosa, no? Eh, a concebirà il segno dell'attivo Qua Vai Perfetto Ok, questo cosa farà? Beh, ovvio che cosa farà mai Che cosa farà mai? Eccoci qua Vai Ottico E quindi Siamo a postolo Vai, grazie Molto gentilo Vai Eccoci qua Ops Cazzo, ma stiamo facendo un bucho di astramani In questo posto Eh già Così sembra Ma porca vacca Vabbè Allora adesso cosa facciamo noi? Beh, ci provo A fare la cacata Dire te Quella si mi riesci sicura Ok, ce l'ho fatta Vediamo un po' Vai E cosa ci sarà mai? Opla Ecco qua Adesso noi Insomma, sì Sì Chiaro, no? Eh, ma porca vacca Eh, insomma È un casino Adesso finalmente possiamo prendere questo Lo che ci servisse Però che ci servisse Però, insomma, l'abbia presa Eccoci qua Andiamo qua Perfetto Andiamo qua Andiamo qua Andiamo Mi può dare un attimo Sono incoglionito Ma è lì Oh, che bella cosa Ve ne possiamo andarcene via Abbiamo fatto quello che dovevo fare qua Poi Andiamo su E andiamo di qua Ottico Ecco qua Salleppa che gli ho dato Adesso ritorniamo alla stazione centrale Andiamo a usare questo Insomma Sì Chiaro, no? Poi è italiano io Oh, ma chi c'è? Salve Oh, oh Beh Saperlo prima Ok Arrivederci Insomma Nel senso Ok Andiamo pur qua E vediamo Che ho già a fare Non è che qua c'è qualcosa Non c'è un cazzo di niente Va bene pazienza Ed ecco qua Salleppa Oh Eh Una cosa da panico Eh, eh Scusate Spera pazienza Allora Salve Eh 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 Sì Ok Vediamo un po' Vai C'è boia Eccola Simpatica come dito il culo Eh, adesso la vediamo avanti Ma che è meglio Eccoci qua Salve Ok Ho anche salvato Oh Buongiorno Buongiorno anche a lei Eh E ce ne due Le faranno che male Vero? Opla Eh Aspetti un attico Eh Va bene Facci un attico Tac Tac Vai Oh Arriba gente Mi arrivano parecchie Eh C'è la cazzo Stora Oh Porca vacca Eh Porca vacca Vai 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 Vaca e culi Ok Ok Eh sì Eh Opla Eccoci qua Andiamo a cercare qualcun altro Certo Ovviamente Ma è pieno di gente Qua da Da dare una finish Specie di lemon Dice me Eccoci qua Beh è stato Facilo Beh non è stato male male È bello di farlo Bene 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 Andiamo Pur qua Ok Qui siamo Oh Ovviamente ho sbagliato Stato Ma non è possibile L'ho preso sta cosa Che ci sono Scusate L'avevo preso No Lo prendiamo un attico E siamo a posto Giusto per Qua Perché non prenderlo Ok Andiamo pure E siamo a posto Andiamo di qua Benissimo Oh Cosa c'è qua Eh qua c'è un bel dito in culo E niente Proviamo a fare come Come già sappiamo fare Ok Perfetto È andata Beh anche troppo bene Insomma E adesso Proseguiamo di qua Perché c'è un tesoro Tesoroso Eccolo qua Perfettico Voilà Un gioiello Un gioiello demoniaco Che rivela la posizione Di tutti gli schigli Presenti nelle vicinanze Della mappa Ma che cosa gloriosa Ma che cosa gloriosa Ne voglia ma Eh la signora piattola qua C'è Eccoci qua Salve Eccoci qua Salve signora piattola Eccola qua Eccola qua Opla Ecco poverina Si è fatta malo Eccoci Difficile eh Perfetto Altri Ma io ci guardo C'è una bella cosa qua Che Ma siamo messi così bene Che quasi mi dispiace Beh intanto Magari salvo Così nel caso Dovesse servire Il tono indietro E tanti San lustri Allora Andiamo qua Si Perfetto Eh Prendiamolo Un attico Giusto per Non lasciare l'indietro Perfetto Attiviamo E si è aperto Vediamo pure Perfetto Vai Oh c'è a buio Eh Sono pochi Però sono tanti C'è nel senso Sono tanti da amassare Ok Ottico Vedete Alla fine Un po' qua Un po' là Non è mica poco Vai Io Io li prendo Volentieri Perché insomma Sono Sempre punti Ok Devo vedere Quanti li ho fatti Perché Comunque Sono tanti Va bene Vai Ottimo Mica pochi Eh Benissimo Adesso Prendiamo tutto Ah Questo vi è già preso Prendiamo tutto Ottico Bene Andiamo di qua Saliamo 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 Grazie Perfect Ottimo Bene bene Vediamo un po' Cosa fare Oh Interessante Bene bene Ci buttiamo La Glande 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 Di qua Ops E ci siamo Alluvionati Capito Capito Insomma Nel senso Oh ma c'è qualcosa Qua Fatevi vedere Eh È là sopra Vero Penso di sì Ok Andiamo di qua Vediamo se c'è qualcosa Eh Aspettate un attico Teoria sì Però non ricordo Se è qua Che devo venire E quindi no In teoria Devo andare Senza teoria Devo andare Verso la biforcazione Cioè qua E però Sembra Mi ricordavo qua Scusate Io sono Non ho più palio Lo so Però io mi ricordavo qua Il mio gameplay Che avevo fatto Scusate Ah sì Esatto Qua Perché me lo ricordavo Sapete Poche cose che mi ricordo Sono così poche Eh E adesso In teoria Devo andare qua Ok Così 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 E non era finita Ok Perfetto Vai Andata Benissimo Adesso possiamo andare Tranquillamente Qua Ok Fare una cosa da panico Così Eh ma cazzo Facciamoci i buchi dell'acqua Qua Eh vabbè Andata così Adesso dobbiamo andare Qua Perfettico Di qua Chi c'è Opla Oh se ho fatto male Eh mi dispiace tanto Come si è messi qua Martello Non so neanche bene E poi c'è questo qua Che lo prendiamo giusto Per non stare niente indietro Perché se no rimarrebbe lì Eh sarebbe brutto Quindi Oh se ho fatto la cacata Ecco qua Scusi Scusi Mi spio può salire il grazie Mamma mia Che roba Eccoci qua Anche salvonato Ottimo Quando salva Ci buttiamo Perfetto Sa che volo da panico E qua Sarà un bel dito in culo Bene Preperiamoci ad affrontare il boss Eccoci qua Vai Eccolo qua È così Perfetto Se magari Si ritornasse Normalo E niente Purtroppo Dobbiamo fare in modo Che questo qui Si raffreddi Quindi ci mettiamo In un punto Un po' Vicino Da che si sta raffreddando Ok Questo è il dato Ok Andata Bene 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 E vabbè E niente Ok Aspettiamo a che me lo ritiri Vai Ah io mi ho preso il piedo Ok Perfetto Perfetto Bene Si sta facendo Ok Ok Venite Attico Attico Vai Vai però che il tot era ripreso vai perfetto eh ma ci siamo eh ma ci siamo e ha fatto parecchio malo eh eh vai ok caraca ecco ci qua mia cara è vecchia ecco ci qua spaccoli pulo i canarini è vecchia Grazie a tutti. Oh beh, è stato facile. Porca vacca se è stato facile. È il più facile di tutti. Oh, grazie. Perfetto. Oh, Summer vuole questo oggetto. Adesso glielo porterò. Oddio, scusate. Due sistemati, due rimasti. Alla fine potresti davvero arrivare alla torre. Lì ci sarà da divertirsi. Portiamo questa cosa da Samael. Sì. Lo farò subito. Vediamo se ci dice qualcos'altro. Samael ci attende alla prigione. Vabbè, proprio una cosa da panico. Vabbè, ragazzi, direi che ci possiamo anche fermare qui. Questo è tutto. Vi vedete come solito. Adesso vi faccio un like e un commento. Se mi piace assieme, fammi sapere cosa pensate. Però adesso vediamo sotto la sciva. Ciao, ciao.